Benvenuta, benvenuta. In questa stanza separiamo lo sviluppo dal progresso. Gli schermi servono a questo. Guarda dritto davanti a te. Prova ad appoggiare e a far scorrere la mano destra sul meraviglioso corrimano nero lucido. Senti il freddo. Metti bene le cuffie. L'immaginario esiste. Eccoci. Ma veramente vuoi partire? Vieni, 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 seguimi, seguimi in fretta, non più in fretta, andiamo. Vieni, 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 seguimi, seguimi in fretta, andiamo, rispondendo la sua regola. Vieni, 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 non batare a nessun altro solo, vieni, vieni. Mia madre mi diceva sempre, non c'è sinagoga, chiesa, polis, comunità etnica che non meriti di essere abbandonata. Vieni, 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 suoni, vieni, vieni. Grazie a tutti